ciao a tutti come mi ha già presentato matteo sono alessandro miliucci mi avete visto qui già più volte forse anche troppo spesso e lavoro come cto invitra un'azienda che si occupa di commerce sas ed è appunto ovviamente una startup javascript perdonatemi ovviamente da subito se per il titolo di questa presentazione ricalca quello del celebre libro di brooks ma parliamo proprio di questo cioè di come javascript sia considerato oggi l'ennesimo proiettile d'argento dei nostri tempi e del nostro settore la panacea la soluzione tecnologica problemi di tutte le startup iniziamo quindi dal cercare di capire cos'è una startup oggi soprattutto in italia tutto viene considerato una startup lo avete sentito dai vostri amici dei giornali dall'intervista agli regoli fondatori apre una pizzeria no è una startup che rivoluzione il concetto di pizza facendo di fare crunch pianto un campo di melanzane no è una startup per democratizzare il biodinamico e renderlo accessibile a tutti crea un'applicazione per salvare le spese che ho fatto durante il mese no è una challenger bank che sfida lo status quo bancario permettendo di diventare padrone dei soldi purtroppo tutta questa diciamo confusione a tratti ridicola nasce da un problema semantico dovuto all'inglese cioè la fase di startup di un'azienda cioè la fase di avvio non è la stessa cosa di una startup per come lo intendiamo noi oltre questo ci sono altre cose che vengono credute per esempio il fatto che sia necessaria sempre una forte componente tecnologica per essere una startup ma non è necessariamente così oppure che deve essere per forza qualcosa di utile pensiamo a tiktok a che serve a niente eppure e nessuno ovviamente dovrebbe scandalizzarsi di cose come queste cioè come cose praticamente inutili riescano ad attrarre capitali giganteschi ma proprio questa l'essenza del capitalismo pensate infatti a tutti i soldi che sono stati spesi e perduti nel 1600 soltanto perché i tulipani erano diventati uno stato simbolo in realtà la startup è soltanto una azienda che punta a trovare una sua posizione nel mercato molto velocemente per poi scalare crescere esponenzialmente e come potete ben immaginare nessuno degli esempi che abbiamo fatto qui è automaticamente una startup perché se manca il fattore scalabilità può essere al massimo un'azienda molto profittevole dove investire ma che non scala cioè come faccio per esempio a servire più persone di quelle che posso fare entrare la mia pizzeria ma per andare velocemente e bruciare le tappe c'è una necessità essenziale per le startup e non è l'impegno che è un prerequisito per andare velocemente e bruciare le tappe servono soldi tanti soldi i soldi sono il mai necessario per riuscire all'impresa le persone vanno pagate per lavorare soprattutto le migliori la ricerca costa trovare clienti anche anche se può sembrare assurdo è così perché perché un'azienda normale nasce piccola e cresce gradualmente quindi lentamente e si allarga man mano che aumentano i suoi guadagni la startup invece è come se fosse un'azienda al contrario che nasce già con la data del suo funerale iscritta cioè la fine dei suoi fondi o investimenti iniziali e che deve quindi fare di tutto il più velocemente possibile per trovare un suo posto nel mondo il cosiddetto market fit e trovare anche la sostenibilità economica prima che sia troppo tardi cioè un modello business scalabile validato e un numero adeguato di clienti recentemente una persona molto navigata in questo settore mi ha detto dopo una lunga conversazione sai alla fine la startup è un'azienda che brucia soldi il più velocemente possibile più ne ha e più ne deve bruciare è una semplificazione estrema però reale nonostante tutto questo le fasi della vita di una startup sono abbastanza standard e le possiamo vedere in questo grafico che le raggruppa in diciamo tre macrofasi la fase 1 che è quella dell'ideazione della formazione qui in sostanza si procede a birra taralli e chiacchiere e se non si conclude nulla al massimo abbiamo perso un po di tempo nella fase 2 invece quella della validazione cioè la parte che inizia con lo sviluppo selvaggio e che viene iterato più e più volte fino a trovare il punto di svolta cioè la validazione del modello che scalerà molte startup arrivano e finiscono in questa fase perché non riescono a superarla non è facile questa fase può durare anche molto tempo e qui in mezzo ci possono essere più e più investimenti per mandarla avanti e far raggiungere la fase finale cioè la fase 3 nel punto in cui si è trovato un modello economico che scala e si fa scalare l'azienda a questo punto l'azienda inizia la sua crescita si spera esponenziale ma a questo punto di solito c'è già una certa sostenibilità economica che è stata raggiunta con investimenti o in modo autonomo se si hanno abbastanza clienti quindi è facile capire più che capire diciamo intuire come la fase centrale quindi quella della validazione quella appunto proprio della startup per come la immaginiamo noi è la realizzazione e come questa sia la più importante per non sbagliare possiamo quindi dire che il peso della componente di realizzazione cioè lo sviluppo almeno e soprattutto nelle startup tecnologiche che è quello di cui parleremo adesso ovviamente è nettamente superiore a quello dell'ideazione le idee stanno lì dobbiamo soltanto essere in grado di scoprirle la difficoltà sarà realizzarle anche l'originalità è molto sopravvalutata per esempio scambiarsi soldi è originale permettere alle persone di vendere vestiti originale no eppure sono startup di cui abbiamo sentito più e più volte parlare e dato che sarà la realizzazione a fare la differenza le scelte tecnologiche ne stanno alla base avranno un impatto enorme sull'eventuale successo della startup ed è qui che arriviamo a jss a javascript scusate e a cosa comporta metterlo come scelta tecnologica di base procediamo anche qui per fasi l'MWP l'abbiamo visto nel grafico precedente diciamo la prima fase in cui si sviluppa siamo quindi in questa fase iniziale la nostra startup e dobbiamo creare il primo prodotto per validare la nostra idea creando quindi una versione essenziale estremamente semplificata ridotta sui minimi termini non serve fare ora il grattacielo ci basta la capanna per validare l'idea di abitazione o riparo a questo punto vogliamo capire se javascript fa veramente al caso nostro e facciamo una ricerca online per capirlo cerchiamo e vediamo come ci siano tante promesse su come creare una startup un poco tempo utilizzando javascript e come questo sia semplice e veloce ma soprattutto come imparare javascript sia una specie di passeggiata su un prato bastano poche ore naturalmente tutte le presentazioni che sono state fatte che continuano a essere fatte qui su Roma.js su Roma.js dimostrano il contrario rimarrei per ore a guardare in questa animazione ma andiamo avanti quindi siamo arrivati qui al primo mito che vorrei sfatare cioè che javascript è facile. Questo elenco rappresenta alcune delle caratteristiche di javascript più importanti e che sono quasi sempre ignorate fino a che uno non ci finisce contro diciamo perché appunto js deve essere facile come diceva la pubblicità quindi se vediamo punto per punto velocemente c'è il primo punto che parla del diciamo del flusso di esecuzione quindi callback promise e funzioni asincrone e già quello lì rappresenta cioè se andate su stack over flow trovate centinaia migliaia di domande su questi argomenti per farvi capire quanto non sono affatto banali. Il secondo che è quello credo in assoluto più incompreso di javascript è il suo meccanismo per l'editarietà o meglio per sfruttare il suo meccanismo di prototype oppure mixing o come in generale estendere oggetti. L'altro sono gli scope e le funzioni come queste diciamo si intersecano tra loro, i meccanismi di proxy, il funzionamento del level loop se siamo sul node o sul browser oppure cose più recenti come i generators e l'iterators. E conclude questa lista ovviamente una delle cose a cui sono state diciamo dedicate più articoli, presentazioni, libri, cioè i quicks, cioè le stranezze di javascript e le cose assurde. Basta fare pure qui una ricerca su google per vedere il numero di risultati che ci dà per questa ricerca qui. E queste stranezze mi direte vabbè sono in tutti i linguaggi sì ma javascript sono più strane perché sono strane le cose più semplici. Cioè se provate per esempio a fare 0.1 più 0.2 vedrete che è diverso da 0.3 e questa dovrebbe essere a mio avviso una cosa ovvia. E questo ci fa, questo diciamo ci fa capire che per conoscere e padroneggiare javascript servono mesi, anni e nonostante questo, e questo ve lo può confermare chiunque ci lavori regolarmente, appena abbassiamo la guardia, appena cerchiamo di fare furbi o di diciamo lavoriamo con leggerezza, sicuramente ci colpirà in qualche modo, come una specie di elastico che possiamo tendere, è molto utile, ci facciamo quello che ci serve, ma se non stiamo attenti ci schizza addosso e ci farà abbastanza male. Se questo è un mito la verità su javascript però qual è? È che è veloce, flessibile e soprattutto è molto amico degli hack e quindi è un linguaggio secondo me molto potente per sviluppare degli mvp ed è proprio qui che javascript è il suo meglio, nella velocità con cui possiamo realizzarli, infatti possiamo lavorare molto velocemente, fare modifiche e fare hack soprattutto in modo molto veloce. E gli hack sono il pane quotidiano nelle fasi iniziali della startup. In particolare qui ho messo questa immagine dello stack, del cosiddetto stack mern, cioè mongo, express, react e node che ci permette di sviluppare praticamente ogni aspetto del nostro progetto, soprattutto nella fase di mvp in modo molto dinamico, come richiesto ovviamente da ogni mvp che si rispetti. Naturalmente qui possiamo sostituire i singoli elementi, cioè possiamo sostituire react con un'altra libreria per realizzare interfacce, possiamo sostituire mongo con postgray, possiamo sostituire express con fastify, il risultato non cambia, ovviamente il risultato positivo. Quindi JavaScript è sicuramente un ottimo punto di partenza per la nostra startup. Passiamo ora alla seconda fase della vita della startup, che di solito è quella più lunga, cioè la fase delle iterazioni, dove dobbiamo far evolvere il nostro prototipo, validare la nostra idea fino a trovare il punto di svolta per farla crescere, come abbiamo già visto prima. Qui cerchiamo di trasformare la nostra versione essenziale del progetto in una più raffinata, completa, aggiungendo funzionalità. E versione dopo versione ingrandiamo la nostra costruzione tenendo sempre presente quello a cui vorremmo arrivare, cioè il nostro ipotetico grattacielo. E in questa fase c'è un altro mito legato a JavaScript che vorrei sfatare, che utilizzo JavaScript nella mia startup perché così ho un linguaggio comune per tutto lo stack e riutilizzo le conoscenze. Soprattutto perché siamo in pochi. Usiamo JS e così possiamo scambiarci di ruolo e tutti possono contribuire. Facciamo un bel giro tondo e tutti sono contenti. Naturalmente questo è un mito perché il frontend ha uno stack diciamo completamente separato dal backend. Molti che fanno il nostro lavoro e sicuramente con cui avrete avuto a che fare fanno fatica a capire frontend se si occupano di backend e viceversa. Non perché sono stupidi ma perché non conoscono bene uno dei due mondi e sono soprattutto magari specializzati in uno. E questo naturalmente non è necessariamente un male. Ovviamente il linguaggio è comune realmente soltanto se tutti quelli che ci lavorano sono veramente esperti di tutti e due diciamo gli ambiti. I famosi full stack ma che spesso nella realtà sono diciamo tre quarti di stack. La verità quindi qual è? È che backend e frontend sono due mondi separati, completamente distinti perché richiedono conoscenze completamente differenti. Magari sì si utilizza sempre JavaScript ma servono tante altre conoscenze per poter capire il funzionamento. Come per riuscire a capire cosa fa un'app React Redux? C'è bisogno di conoscere tutti i concetti legati a questi due. Per capire come funziona il backend è necessario conoscere come funziona il framework utilizzato, come funziona il database, la validazione, la gestione delle chiamate HTTP e tanto altro. Quindi non sono due mondi separati come abbiamo detto solo se chi ci lavora conosce bene tutti e due appunto gli sviluppatori full stack ma naturalmente non tutti gli sviluppatori hanno queste conoscenze. Quindi il problema qual è? Come se parlassimo di fisica e filosofia non è perché tutti e due i testi sono scritti in italiano allora vuol dire che tutti possono capirli o addirittura scriverli. ma soltanto se si conosce quello di cui sta parlando. Un altro mito legato a questa fase o comunque che è importante in questa fase qui, quindi nella fase dello sviluppo forte della nostra startup JavaScript, è quello del cosiddetto ecosistema maturo. Qui ho inserito soltanto lo screenshot di questo titolo, sicuramente la maggior parte di voi si ricorderà questo drammatico momento di qualche anno fa, quando uno sviluppatore per alcuni motivi legati a un fraintendimento che c'è stato da parte di quelli di npm, ha deciso di togliere da npm un pacchetto di undiciline di codice chiamato leftpad, che se non sbaglio faceva qualcosa come aggiungere un po' di padding a punta sinistra. Questa piccola modifica ha fatto crollare praticamente il mondo e una maria di progetti, pubblici e non, hanno smesso di eseguire le build perché la dipendenza non veniva più risolta. Cosa è successo dopo? Npm ha aggiornato le sue politiche per la rimozione dei pacchetti e ora è un po' più difficile farlo. Però questo qui ci dà un altro, diciamo che è sintomo di un altro problema che è legato all'ecosistema JavaScript, cioè che ci sono un'infinità di dipendenze estremamente piccole. Questo spesso viene visto come un bene, ma dal mio punto di vista assolutamente non lo è, soprattutto oggi che è possibile fare per esempio trishaking, sarebbe molto più utile avere, come la maggior parte degli altri linguaggi, delle librerie naturalmente contestuali che risolvono un certo tipo di problemi, ma che raccolgono al loro interno più funzioni, più utilità. E oltre questo tipo di problemi ce ne sono altri, me ne racconto soltanto due, che mi sono capitati, diciamo, nell'ultimo anno. Winston, un famoso blogger in JavaScript, da una versione all'altra, se non sbaglio, dalla tua e da tre, ha cambiato completamente il modo in cui viene configurato e come si utilizza. E la cosa però assurda è che con il nuovo, con la nuova versione, non è possibile ricreare il funzionamento della precedente. E se andate su GitHub, o se volete dopo vi mando il link alla issue, potete vedere questa infinita issue che sta aperta da tempo in memory e che non c'è modo di risolverla. Un'altra cosa che mi è capitata negli ultimi mesi, con Joy, un validatore, che immagino molti di voi conosceranno, da una versione all'altra, ha deciso di cambiare il valore di ritorno in caso di valutazione positiva della funzione validate. Prima era null, adesso undefined. Sì, ok, aggiornamento di versione, modifica che rompe tutto, vabbè. Il problema però qual è? È che aggiornando la libreria, non facendo caso a questo, come è successo nel mio caso, solo dopo un po' di tempo mi sono usciti fuori degli errori che non riuscivo a comprendere e proprio non capivo. Per fortuna era una funzionalità, diciamo, non cruciale dell'applicazione. E il problema però pure qui qual è? Quando tu modifichi il comportamento a una cosa, diciamo, al punto proprio centrale, al codice più comune che può essere scritto per la tua libreria, questo ovviamente è impensabile, dover iscrivere tutto perché tu hai deciso di cambiare il valore di ritorno. Cercando su GitHub non sono nemmeno riuscito a capire qual è la motivazione. E ovviamente in questi casi pensi sempre che l'errore sia il tuo e non pensi che sia soltanto un aggiornamento che hai fatto di una libreria e che l'applicazione parte, funziona tutto, ma quindi così. In generale, questo qui è il sintomo poi di un altro problema, che è quello della frammentazione dell'ecosistema JavaScript e soprattutto della duplicazione di qualsiasi libreria. Quindi ci sono librerie che fanno la stessa cosa, ce ne sono tante e tutte hanno qualcosa che non funziona. E da questo ovviamente è impossibile non citare la questione delle date. Ci sono tantissimi librerie che si occupano di manipolare date perché JavaScript non ha un meccanismo, diciamo, nativo per farlo in modo serio. Però tutto questo, dopo 25 anni dalla nascita di JavaScript, si sta per risolvere perché in pochi giorni fa il proposal temporal API, mi sembra si chiami, è arrivato allo stage 3 quindi tra non molto dovremmo vederlo, potremmo utilizzarlo. Quindi è una libreria finalmente supportata all'interno di JavaScript che risolve il problema delle date. Quindi pure qui il mito dell'ecosistema maturo, questo è il mito. Però la verità qual è? È che open source non vuol dire gratis e che gli ecosistemi maturi stanno solo dove stanno i soldi. Qui ho messo Eric Raymond soltanto per ricordarvi cosa vuol dire essere open source. Gli ecosistemi maturi che vuol dire? Prendete per esempio Java, da decenni lì ci girano montagne di soldi. Ovviamente ci sono librerie su librerie, naturalmente open source, che però li sono potuti sviluppare soltanto perché intorno c'era un'economia. JavaScript ancora questa cosa non ce l'ha, quindi o paghi il supporto o se non paghi stack overflow, issue di GitHub e tuo tempo. Recentemente però per cercare di risolvere questo problema oppure sfruttarlo come più vi piace sono spuntati sempre più servizi che si occupano di supporto legato al software open source di aziende terze. Quindi voi pagate un'azienda che vi dice io vi do il supporto su tutto questo set di librerie open source. E con questo terminiamo la parte delle iterazioni e passiamo all'ultima parte, cioè quella di scalare la startup. A questo punto se riuscite a validare la vostra idea e dovete far crescere l'azienda. E i problemi ovviamente sono diversi da quelli precedenti. Qui vi premetto soltanto che non ho inserito nella presentazione la questione dello scalare direttamente i servizi JavaScript perché ci ho dedicato un'intera presentazione mesi fa e quindi non mi sembrava molto molto utile. A questo punto quindi dovete scalare la vostra azienda. Il primo mito legato al JavaScript è che assumere sviluppatori in JavaScript è facile. Utilizzo JavaScript perché così posso assumere tanti sviluppatori, ne trovo tanti e quindi posso far scalare più facilmente e magari anche in modo più economico la mia azienda. Ovviamente questo non è assolutamente vero. Vi posso dire per esperienza che ogni 100 candidati, più della metà, arrivavano con scritto conosco WordPress e Gequiri, conosco HTML, so fare l'animazione della neve a Natale e cose di questo genere. Purtroppo JavaScript, essendo diffusissimo, essendo disponibile direttamente dentro il browser e tutti possono sperimentare, farci qualsiasi cosa, questo qui ha come conseguenza la creazione di una conoscenza molto variegata soprattutto in senso negativo, come se si fosse creata una sorta di globish di JavaScript quindi è una versione molto semplificata per fare cose semplici, ma che però nella realtà se assumete qualcuno che sa fare solo queste cose non ci fate nulla. La verità qui qual è? È molto semplice, non ho aggiunto altro, solo questo qui, trovare persone capaci, che sia JavaScript o qualsiasi linguaggio, qualsiasi altro linguaggio è sempre difficile, estremamente difficile ma soprattutto vi richiede tanto tempo. L'altro mito che voglio vedere con voi, che è anche l'ultimo, su cui sicuramente molti di voi non saranno d'accordo è che TypeScript risolve i problemi. A questo punto devo scalare la mia azienda e utilizzando TypeScript risolverò tutti gli errori del nostro progetto e questo ci permetterà di continuare a crescere sempre di più con un software che funziona sempre meglio. Qui la verità qual è? JavaScript è il tavolo, TypeScript è la tovaglia a quadretti che ci mettete sopra. Questo che vuol dire? Che potete apparecchiare in modo più ordinato, ma sempre sul tavolo apparecchiate. Il tavolo è sempre lo stesso. Come ho già detto, sicuramente molti non saranno d'accordo, poi soprattutto la prossima presentazione è dedicata a TypeScript quindi sicuramente Marco ci dirà di più. Però la questione qual è? Che TypeScript comunque ha un sistema di tipi diciamo finto, nel senso che è adattato alle possibilità di JavaScript visto che c'è JavaScript sotto e che questo sistema di tipi, come in generale tutti i sistemi di tipi risolvono diciamo gratis, automaticamente, soltanto una certa classe di problemi e ovviamente al prezzo della perdita di una certa flessibilità o della flessibilità estrema di JavaScript. Ma come sviluppatori questo diciamo è comprensibile perché cerchiamo sempre diciamo dei ripari delle cose per semplificarci la vita che ci diano più garanzie. Ma ovviamente se uno non è capace a scrivere codice JavaScript difficilmente credo che possa scrivere bene codice TypeScript. Su questo dovrebbe esserci già bastata la lezione di Java dove comunque ormai da decenni ci sono frotte e frotte di persone che si definiscono sviluppatori soltanto perché sanno premere play sui clips e far combaciare i tipi e dire sono sviluppatore Java perché compila. Ovviamente il fatto che compili un codice non significa naturalmente che questo funzioni e che si comporti come previsto. Nel caso di TypeScript poi la cosa che sentiamo e che almeno sento parlare più spesso è migrazione a TypeScript, ho migrato a TypeScript, adesso funziona tutto, adesso è meglio. Dal mio punto di vista se migri a TypeScript e adesso il progetto funziona probabilmente prima era scritto male. Naturalmente rimane il fatto che alcuni problemi possono essere evitati completamente ma non tutti. Quindi il discorso della dimensione dei bug dovuti alla collaborazione, al fatto dei cambiamenti alle interfacce, alle props nel caso di React o alle funzioni, questo ovviamente è assolutamente vero. Il problema di GS ovviamente in generale è la grande libertà che dà allo sviluppatore e ha le tante possibilità di fare le cose nei modi più, diciamo, anche impensabili e se vogliamo creativi. E quindi cerchiamo sempre più restrizioni per evitare di fare dei danni. Quindi a questo punto mi direte, e quindi? Devo utilizzare JavaScript o no per la mia startup? La mia risposta è che se quello che abbiamo visto, diciamo, è comprensibile, se siete d'accordo, se i motivi che vi spingono ad utilizzare JavaScript non sono quelli legati ai miti, ma vi è ben chiara la verità e soprattutto vi è ben chiaro che come qualsiasi altro linguaggio, qualsiasi altro, diciamo, ecosistema tecnologico richiede studio, dedizione e un lavoro continuo sull'ampliamento della conoscenza, allora è sì. Altrimenti se lo fate cercando una soluzione economica e veloce e che non richieda conoscenza, la risposta è no. Ma soprattutto quello che vorrei ora, diciamo, sentire da voi è se vi rispecchiate in queste cose oppure se avete vissuto queste miti e queste verità. Vi lascio soltanto una specie di bibliografia, sono soltanto tre libri che sono un po', diciamo, scollegati, non del tutto collegati a quello che abbiamo visto, però ritengo molto interessanti. Tutto qua. Si è perso. Mi prometto. No, no. Eccolo qua, aspettavo se mi stavi chiamando tu o la fine della presentazione. Allora, grazie Alessandro, intanto ti riporto... Vabbè, parto da qualche commento, ma adesso arriveranno sicuramente qualche altra opinione sul JavaScript. Mi rispecchia parecchio alcune cose che hai detto, ma adesso magari ne affrontiamo. Parto da quella di Alessandro che fa... Non conoscevo il concetto di Breaking Changes finché stavo su Angular. Poi ho sentito l'orsacchio... Vabbè, c'era poi una citazione di Elio Snedese, comunque poi si è presentato l'orsetto React Native. Ha cominciato a... Per chi lavora su React Native, sì, ogni tanto... Però ufficialmente non sono ancora la 1.0, quindi qualsiasi cosa possa... Certo. Sono abbastanza liberi di farlo. Però sì, sono quelle Breaking Changes e poi ti fanno perdere diverse ore di sonno quando va bene. E vabbè, il caso l'Empad fa sempre grande scalpore. E tutt'oggi, o a ogni corso che vado a fare, magari leggete che si approccia su NPM, vale la pena nominarlo. Però in quell'ottica mi ero segnato questa domanda, poi parzialmente è risposto, però non so se sono così convinto. Sul discorso ecosistema, come parte della community sa, ho la doppia anima, ho il mio lato oscuro, molto PHP, oltre che JavaScript. E quindi parlo della mia esperienza più sull'ambito PHP che Java. Però hai citato anche Java, questo che mi ha appuntato era tu. Il fatto che dell'ecosistema, che ad oggi è oggettivamente più stabile, è solo una questione di tempo? È solo una questione di soldi, come dici tu, di aziende che nel tempo, Java uno per tutti, hanno investito parecchio sulla cosa? O un'evoluzione dello sviluppo, dello sviluppatore open source? Ti faccio un esempio poi, giusto per contestualizzare, poi ti dico, mi fa molto, molto, ci penso spesso. C'è una libreria che utilizzo in PHP da diversi anni, che ha delle issue, delle richieste, delle change request, delle discussioni nella community, che vanno avanti, magari dal 2013, e stanno ancora ad oggi, ma trovi il post dell'anno, delle due settimane fa, che discutono se attuare o meno queste changes. Dall'altra parte abbiamo l'ecosistema JavaScript, dove ogni due settimane c'è una nuova release, che potenzialmente spacca tutto. Allora, lì, penso, è una questione di soldi, è una questione di tempo, di maturazione degli sviluppatori, o è un paradigma del nuovo approccio allo sviluppo dei moduli, così com'è? Allora, guarda, secondo me ci sono due cose, cioè me le ero segnate, però poi per brevità ho evitato di dirle, però visto che me le hai chiesto te lo dico. Allora, nel caso di Java, una cosa secondo me importante, considerare il ruolo della Apache, come vuoi pronunciare la Foundation, che per tanti anni continuava ad oggi a fare da cappello, da ombrello, scusate, da un numero enorme di progetti, al quale però dà anche una sorta di requisiti che devono rispettare, nel senso stai qui dentro solo se rispetti queste regole. Tra i progetti, secondo me, più famosi, almeno quelli di livello però più basso, quindi non quelli direttamente applicativi, per esempio c'è Apache Commons, che è una mega libreria dove dentro ci sono funzionalità di ogni tipo. Che invece, per esempio, manca nel mondo JavaScript. E questo per dirti, secondo me, qual è la questione sul fatto che siano più stabili. E l'altro invece è legato, tu hai detto è un problema solo di soldi, altro no. Lì, secondo me, nel mondo JavaScript c'è un problema in più che è quello dell'ego, degli sviluppatori. Perché, vista in generale l'età molto più bassa di chi sviluppa già, scritto questo ovviamente è una mia considerazione, c'è questa tendenza a cercare di spingere in maniera ossessiva a rifare, a fare la propria versione di qualsiasi cosa. Quindi, se magari adesso ci mettiamo e cerchiamo su GitHub, troviamo 200 versioni diverse di LeftPad o di qualsiasi altra libreria. E questo perché, ripeto, c'è una questione di Diego e il fatto di questa, diciamo, logica delle stellette di GitHub, se vuoi chiamare stellette driven development, io scelgo la libreria che ha più stelle. E questo credo che sia molto importante, nel senso che succede quotidianamente, ecco, scegliere in base a questo. L'hai tirato fuori tu, non volevo tirarlo fuori, cioè, specificatamente anche sul discorso della... non dell'età poi banalmente anagrafica di chi ci sviluppa, che anche questo porta il suo problema, proprio di una cultura dello sviluppo, di sviluppatori più giovani, magari, che dagli ultimi dieci anni, ecco, hanno cominciato a contribuire all'open source rispetto agli sviluppatori, delle cose, dei pacchetti più... tipo... però, tu hai parlato di Apache Foundation, nell'ottica di Commons e cose, nell'ambito PHP, che è quello che conosco più da vicino, ci sono framework e... forse anche legate al concetto aziendale, forse mi sfugge il collegamento di soldi, che è un altro dei... dei volani di crescita di certe cose. Però, altri progetti che mi vedo essere indipendenti, magari con 200 star, ma che stanno lì da 15 anni, ad... come dire, evolvere con la tecnologia del linguaggio, però nuove funzioni, nuove cose vengono molto discusse. Questo sia più, forse, qualcosa di culturale, di paradigma, di come uno si approccia poi al... Sì, considera pure che la maggior parte, per esempio, lì parlando di Commons e anche di PHP, la maggior parte dei progetti sono, alla fine, roba di back-end. Quindi, pure lì, secondo me, lo sviluppatore che contribuisce a tutto un percorso, molto probabilmente più lungo di quello di chi si approccia al front-end, che di solito, non dico il primo lavoro, però, diciamo, in generale, pure qui, poi c'è di nuovo la questione anagrafica e legata all'esperienza. Accetto l'obiezione. Daniele ti dice, il libro di Fischer, mi sconvolge ogni volta che lo apro, bella scelta, ma perché lo hai inserito in questa bibliografia? Perché abbiamo pronunciato la parola capitalismo, e perché, secondo me, è un libro estremamente interessante. Ok. Ah, perché l'altra cosa che ho dimenticato di dire è che non vorrei che dalla presentazione pensassero che io sono, dico, ultra-capitalista e a favore di questa roba che abbiamo visto qui, anzi. Quindi... E che non scrivi javascript e fai solo java. Ludovico dice, credo che l'universo... Aspetta, lo mettiamo qua. Già va scritto a livello di risorse e sta affrontando quello che il mondo PHP ha affrontato in passato. Facile da imparare, o meglio, fare prove da browser. Facile trovare gente improvvisata che dice che conosco il Kung Fu. Sì. Posso... Vai, vai. Sì, anche questa cosa di PHP è verissima, perché, diciamo, ci hanno tutti e due lo stesso problema. Non so se ti ricordi, mi sembra un post di Atwood, uno dei fondatori di Stack Overflow. Se non ricordo male, parecchi anni fa aveva scritto questa cosa dell'eliminare il PHP, che è come una sorta di... Cioè, dice essenzialmente questo, dato che si trova dappertutto, tutti si sentono in obbligo di utilizzarlo e di dire che ne sono bravi. E il fatto di javascript, secondo me, accento ancora di più questa cosa, perché io qui faccio tasto destro, console, e ce l'ho, quindi non devo nemmeno essere in grado di installare un web server oppure di collegarmi da qualche parte. Proprio a livello di entrata... Spezzo solo una lancia... No, no, spezzo nulla, non era una lancia, quanto invece una considerazione inversa di Ludovico. Ti posso garantire che ancora non è una cosa che il mondo PHP ha affrontato in passato, perché ancora tutt'oggi ci sono esse problematiche del mondo PHP. Arriva qualcos'altro, questa di Antonio. Personalmente la front-end e la conoscenza javascript mi ha permesso di imparare concetti di back-end senza dover imparare un nuovo linguaggio. Questa flessibilità può essere un vantaggio per le start-up? Un po' l'avevo citato all'inizio col giro tondo, il fatto che sia un unico linguaggio per front-end e back-end. Sì, sì, l'importante però è che i concetti siano conosciuti veramente in maniera approfondita, non superficiale, perché altrimenti è una conoscenza, diciamo così, che ci puoi fare ben poco. Però sì, questo qui sicuramente è positivo, cioè non è un male anzi. Sto cercando di collegare tutte le domande. Ma il discorso sulle dipendenze è complesso nel momento in cui fai un pacchetto standard. Piano piano questo si costitizza, più gente lo usa, meno può cambiare per adattarsi. E a quel punto nascono tutte le varie alternative. Sì, questo è probabilmente riferimento al discorso PHP, librerie standard, Java e quant'altro. Però la domanda che poi chiediamo è, è veramente solo una questione di tempo? Quindi Express.js ad oggi può essere considerato come una libreria Java a livello di stabilità e di changes che non ci saranno più? Lo lasciamo così nel live. No, lo so, guarda, tra le, aggiungo soltanto che tra le, diciamo, tra i vari argomenti che avevo nella mia lista, papabili per questa presentazione, c'erano tanti, ma tra uno in particolare era proprio smontare Express, che era, alla fine ha vinto questo qui. Perché, farò una presentazione su questo perché naturalmente l'ho dovuto fare, non ti dico che, però, per far vedere come ci siano delle cose molto assurde anche lì dentro, nonostante sia diffusissimo. No, come ho visto, non è sinonimo la diffusione. C'erano tantissimi progetti che sono, tipo, una delle cose banali erano il kernel di Linux o Apache come web server o Nginx come stelline su GitHub rispetto a una libreria come Lethpa. Va bene, Alessandro, ti ringrazio. Grazie a te, grazie a voi. interessantissima, ho creato un dibattito molto costruttivo anche nella formazione di sviluppatori gruvi. Ti ringrazio. Per chi vuole, poi, post meet up, vi sarà un piccolo networking su Gizi, quindi se volete poi porre qualche domanda, non so se Alessandro riesce a partecipare. Comunque, a dopo. Ciao Alessandro.